Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, non so bene come approcciare la recensione di questo libro, perché sostanzialmente è un libro che non mi è piaciuto, ma... e non so come dirvelo, nel senso. Partiamo dalle basi. Quindi, è il primo libro che io ho letto del genere Dark Accademia a dicembre 2023, quindi un mesetto fa. Cosa mi lascia perplessa? Il fatto che il libro di per sé non mi è piaciuto, e adesso vi spiegherò perché, ma l'ho letto in due giorni. Partiamo col dire che il libro è una lezione di vendetta di Victoria Lee. Io questo libro non l'ho comprato, mi è stato regalato, e sono convinta di venderlo. Per quale motivo? Perché, veramente, è un libro che mi ha lasciato di stucco, ma in negativo. Premessa, questo sarà un video spoiler, nel senso che se volete leggere questo libro, forse non è il caso che ve lo guardiate, perché io ho intenzione di spiegarvi papale papale il motivo per cui non mi è piaciuto. Quindi dovrò assolutamente parlarvi della trama nei dettagli, e soprattutto del finale. Motivo per cui, se siete interessati, mi dispiace, forse è meglio non guardarlo finché non lo avete letto. Detto ciò, iniziamo con, appunto, il dire che io l'ho letto in due giorni. È un libro che mi ha assolutamente tenuto incollata alle pagine, io dovevo sapere come sarebbe andata a finire la vicenda. Ciò nonostante, è un libro che mi ha inquietata da morire, e va bene il genere Dark Academia, quindi il fatto che ci debba essere del mistero e tutto quello che volete, però, secondo me, qui siamo andati un po' oltre il mistero. Allora, ovviamente è un libro ambientato in una scuola, o meglio, in questa... una sorta di college liceale, non saprei come spiegarvelo meglio, nel senso che non sono all'università queste ragazze, bensì sono suddivise in delle case, ognuna di queste con, diciamo, delle caratteristiche specifiche, non è una cosa soprannaturale, è una cosa molto normale, molto nell'ordinario, e ognuna di queste case, appunto, ha, diciamo, una sua peculiarità, perché si lega a una delle ragazze che, nel momento della fondazione della scuola, sono state uccise. Non so se si è capito quello che ho detto. Rifamo. Praticamente, la nostra protagonista, che è Felicity Morrow, vive alla Godwin House. Questa casa, che è un po' più distaccata dal complesso delle altre case, sta, appunto, su una collina. C'è una mappa qui all'inizio del libro. Ok, ve la faccio vedere così vi fate un'idea, non so se si vede a dire la verità. Comunque, sta su una collina. E, appunto, il comprensorio della scuola è formato poi dalla Yancy House, Chopin House, Maud Hall, Wharton Hall, insomma, eccetera, eccetera. Qual è il problema di questa Godwin House? In questa Godwin House ci viveva la fondatrice della scuola, che è Marjorie, e le vicende di Felicity, quindi la nostra protagonista, e questa Marjorie, che è vissuta 300 anni prima, sono profondamente intrecciate. Non soltanto con questa donna, ma anche con altre quattro. Infatti, erano cinque amiche, che vengono chiamate le streghe di Dalloway. Quindi Dalloway è ovviamente il posto in cui è stata costruita la scuola. Perché? Perché tutte, una dopo l'altra, sono morte in circostanze, e qui arriva l'inquietante, che a me la notte non ha fatto dormire, io fifona fino al midollo, eh. Però, in circostanze un po' soprannaturali. Ad esempio, una è stata impiccata, scusate, ad una quercia, che sta ovviamente, ovviamente, al di fuori della stanza di Felicity, e questa quercia, peccato che sia altissima. E quindi, questa ragazza non è stata trovata in basso, bensì, su uno dei rami più alti. Ed ecco qua, che ovviamente, in un periodo in cui erano molte credenze, i cittadini del villaggio accanto, credevano profondamente nelle streghe. Quindi, è partita la caccia alle streghe. Si pensava, appunto, che queste ragazze, una dopo l'altra, fossero state uccise dal diavolo. Il diavolo, ovviamente, aveva preso possesso di Marjorie, che è stata l'ultima ad essere uccisa, dai cittadini del villaggio, e mi sembra che fosse stata sepolta viva, una cosa del genere. Quindi, qua, inizia l'inquietante della scuola. E vabbè, voi dite, se rimane la leggenda scolastica, ci sta. Io avrei concorrato con voi. Peccato che non è così. Non è così perché Felicity, un giorno, decide di fare, e diventa ossessionata da questa storia, tanto che ci vuole scrivere il suo elaborato finale, eccetera, e decide di fare una seduta spiritica, con la sua ragazza, Alex. E qui, già, insomma. Decide di fare una seduta spiritica con Alex, e lei è convintissima di avere evocato il fantasma di Marjorie. motivo per cui da lì in poi lei vedrà questo fantasma, sentirà questa presenza dappertutto, tanto che succederà un evento. Ora vi spiego l'inizio del libro. L'inizio del libro è Felicity, che torna alla Godwin House un anno dopo aver interrotto gli studi. E noi non capiamo perché. Cioè, questa ragazza era lì, all'ultimo anno ha interrotto gli studi, prende anno sabbatico, viene riammessa l'anno successivo per terminarli. Non sappiamo perché. E questo perché lo scopriamo piano piano durante tutto il libro. E soltanto alla fine noi verremo a conoscenza del quadro completo. Sai lì fatto che, appunto, andando avanti nella storia, scopriamo che lei se n'è andata, è stata portata via, oltretutto in una clinica, perché la sua ragazza, Alex, è morta. In circostanze strane. Lei è stata l'ultima a vederla, Felicity è stata l'ultima a vederla, e il corpo di Alex non è mai stato trovato. Alex è morta, negata, il che sembra esattamente l'inizio, diciamo, del ripetersi della storia, perché la prima delle cinque ragazze, delle streghe di Dalloway, era morta proprio, negata. Panico, quindi io panico. Ok? Ho detto, madonna, il soprannaturale, il naturale, cose, vabbè, ok. Che però, fino a lì, la questione ci poteva stare. Secondo me, se il libro fosse stato sviluppato, con delle morti soprannaturali, quindi, comunque cambiava, non dico genere, però cambiava la realtà delle cose, perché in realtà qua è tutto molto reale, si parla di psicopatia, ok, di una malattia, mentre se si metteva su una questione di stregoneria, la cosa diventava più fantastica. Quindi, secondo me, è scelta dell'autrice, ovviamente. e il mio gusto personale del fatto che avrei preferito diventasse qualcosa di altro, piuttosto che rivelarsi invece un libro da psicopatici, che io spero voi siete capendo, perché mi rendo conto ci siano tanti fili della trama che si intrecciano per arrivare a un punto finale. Dunque, lasciamo qui la storia di Alex. Lei muore, annegata, il corpo non viene più trovato. E Felicity si costruisce tutta una storia inventata nella sua testa durante la terapia, per cui Alex è morto in montagna, e lei è stata l'ultima a vederla. In realtà non è così. Felicity è sempre stata l'ultima a vederla, ma Alex muore annegata. Proprio lì, diciamo, nel lago della scuola. Cosa succede? Nel bel mezzo di queste lucubrazioni mentali e psicotiche di Felicity, arriva una nuova studentessa, che è Alice Hiley. Questa nuova studentessa è amata da tutti, perché è una scrittrice. A 17 anni è una scrittrice famosissima, bravissima, elogiata da tutti. Questo personaggio, che all'inizio sembra soltanto carismatico, tanto da farsi seguire, riuscire a far fare a tutte le altre ragazze della Godwin House, quello che lei vuole, si rivelerà un personaggio fortemente psicotico. Perché si interessa tantissimo a Felicity, tanto da spronarla a continuare la sua ricerca sulle streghe. Alice sta scrivendo un romanzo e decide di scriverlo proprio sulle cinque streghe di Dalloway, sulle loro morti, ma lei è più che convinta che loro non fossero streghe, bensì che Marjorie fosse stata con lei, che aveva ucciso tutte le altre, per mettere in scena questi atti di stregoneria, e che infine fosse stata uccisa dagli cittadini del villaggio. Bene, qual è il problema di Alice? Il problema di Alice è che lei si deve immergere totalmente nella storia per poterla scrivere. Quindi inizia con delle piccolezze, a ricreare ad esempio la setta, sembra molto banale come cosa, soprattutto perché esiste una setta di Marjorie all'interno della scuola, di creare una setta loro, loro cinque, le cinque abitanti della Godwin House, compresa Felicity, che ovviamente essendo stata iniziata la setta di Marjorie, è colei che, diciamo, porta avanti i riti, cioè colei che li amministra. Ecco. Va bene, va bene. E già, va bene. Quindi iniziano queste lettere, che vengono messe sotto alla porta, scritte ovviamente da Alice e da Felicity, alle altre tre ragazze, trovarsi nel bosco, fare l'iniziazione, andare ad una chiesa sconsacrata. Alla fine, Alice riesce anche a far evocare di nuovo gli spiriti a Felicity. Quindi, la stregoneria piano piano prende spazio all'interno di queste cinque nuove ragazze. Finché, si arriva veramente a la follia. Perché si capisce quanto Alice sia manipolatrice e stia manipolando Felicity per farle lasciare delle briciole di pane che però stanno portando piano piano Felicity alla pazzia e Alice ad essere scagionata da ciò che sta per succedere. Perché? Perché ad un certo punto Alice sprona tantissimo Felicity ad andare sulla tomba di Alex perché deve chiudere la questione e questo potrebbe starci. ma Felicity lascia sulla tomba di Alex il giardino segreto il libro preferito da Alex e la sera se lo ritrova in camera. Quindi lei impazzisce va da Alice che nel frattempo sono diventate quasi amanti ok? Glielo dice il mattino dopo il libro è sparito di nuovo. Giorni dopo quando Felicity si sarà calmata se lo ritrova di nuovo in camera e allora lei decide di andare sulla tomba di Alex nel frattempo una delle ragazze della Godwin House non è più tornata a casa. Ha detto che andava a fare un viaggio in una spa e non era più tornata. Benissimo Felicity va sulla tomba di Alex scava la tomba e pur sapendo che la tomba dovrebbe essere vuota perché il cadavere di Alex non è mai stato trovato la tomba è piena cioè la cassa con il cadavere della ragazza che era sparita da casa loro. Quindi Felicity mette insieme tutti i pezzi e capisce che è stata Alice ad ucciderla perché lei doveva assolutamente immergersi all'interno della storia e non riusciva a capire come fosse stata uccisa l'ultima ragazza. Benissimo. E qua già non ci siamo livello di psicopatia folle soprattutto perché Felicity va da Alice glielo dice e Alice replica col fatto che tutto ciò che la polizia potrebbe trovare porterebbe ad incolpare Felicity perché le ha fatto usare l'arco e le frecce ha scritto una lettera insomma varie prove che porterebbero ad incolpare Felicity. e lo so che questo video verrà lunghissimo ma devo spiegarvi devo spiegarvi quindi alla fine della fiera Felicity risoluta prende una decisione scrive una lettera con la calligrafia falsata di Alice la lascia sul sul cuscino di Alice nel frattempo chiede alla ragazza di salire sul tetto e di vedersi lì e dopo averla completamente diciamo sbugiardata quindi averle detto tutto Felicity spinge giù dal tetto Alice che muore e in questo frangente noi veniamo a sapere che Felicity ha spinto Alex per sbaglio stavano litigando nell'acqua del lago Alex non sapeva nuotare e quando Felicity è scesa a recuperarla Alex era già morta e lei l'ha seppellita accanto alla Godwin House il tutto termina con tre anni dopo Felicity che si è rifatto una vita vive in Francia eccetera eccetera e vede in una vetrina pubblicato il libro di Alice dedicato a lei questa è la fine del libro cioè a me allora di per sé la trama è avvincente ma è inquietante e secondo me l'autrice appunto all'inizio lo fa un po' blanda ma quello che voleva fare è mettere il punto su due persone due ragazze completamente psicopatiche per motivi diversi una perché ha vissuto un trauma da lei erroneamente compiuto nel senso che non voleva spingere la fidanzata nel lago ma questa non sapendo notare ha negata e l'altra invece questa fama questo successo l'hanno completamente mandata fuori di testa e quindi ha compiuto un omicidio addirittura per riuscire a scrivere il suo libro beh detto questo appunto io ho letto questo libro in due giorni non mi è piaciuto perché la trama pur che avvincente è troppo cioè anche semplicemente pensare visto che deve essere o almeno credo che l'autrice volesse tenerlo su un piano reale il fatto che due ragazzine di 17 anni possano compiere determinate cose orchestrate con una certa manipolazione e intelligenza mi sembra un po' folle nel senso che nessuna di loro due commette un errore in tutti questi omicidi impossibile cioè mi viene da dire impossibile non mi è piaciuta neanche io non amo i personaggi psicopatici e non amo i personaggi psicopatici che agiscono nel senso che finché c'è un personaggio rinchiuso diciamo in un ambiente sano affinché non commetta determinati atti mi va bene che sia presente in un libro così a piede libero personalmente non mi piace quindi è un motivo in più per cui questo libro non mi è piaciuto inoltre inoltre ero contentissima di leggere il mio primo dark accademia e non ci siamo infatti se avete visto il video scorso mi è stato regalato Babel e io spero fortemente che sia un libro molto diverso rispetto a questo qui e comunque in generale anche la trama del libro non mi è piaciuta cioè i personaggi sono veramente manipolatori e tantissime altre ragazze si fanno manipolare da questi due personaggi che sono di fatto Felicity e Alice e tu c'è sempre questa aura pesante un po' di mistero un po' di magia ma non è qualcosa di elettrizzante è proprio pesante cioè è come se ci fosse un velo di morte su tutto che non mi ha fatto particolarmente godere il libro ne sono rimasta abbastanza delusa vi dirò ho chiuso il libro e ho detto ma io cosa ho appena letto cioè ho passato due giorni incollate alle pagine di questo libro per cosa? però appunto questo è il mio parere personale forse il genere Dark Academia non è il mio vi dirò quando avrò letto Babel cosa ne penso detto ciò ho finito di parlare cioè il clou di questa cosa secondo me di questo libro è la trama io ve l'ho raccontato in lungo e largo perché dovevo raccontare e sono un po' spiazzata cioè ribadisco lo venderò volevo parlarvene e poi venderlo perché non è proprio il mio non mi è piaciuto e sicuramente a qualcuno può piacere penso abbia del potenziale ma non fa per me quindi io ho bisogno di bere dell'acqua spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere le vostre conclusioni o se l'avete letto non lo so se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro come sempre vi lascio i miei profili instagram e tiktok nell'infobox e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao